Documenti è l'elaboratore di testi, l'editor, se volete il World Processing, che ci offre Google e che ha gratuitamente le stesse potenzialità di base di Word, il programma più famoso e diffuso della Microsoft e che tutti quanti noi utilizziamo. Il vantaggio di utilizzare documenti è che innanzitutto è applicativo all'interno della G Suite e quindi comunica in maniera efficace con tutti gli altri strumenti della G Suite ma soprattutto sfrutta appieno le potenzialità del cloud, del cloud computing offerto da G Suite. Quindi in pratica noi con documenti non solo possiamo far scrivere i nostri studenti e quindi far elaborare dei prodotti per la nostra didattica ma possiamo avviare sessioni di lavoro collaborativo, creativo, di co-costruzione tra gruppi di studenti. È un sistema insomma nuovo di scrittura, di videoscrittura che probabilmente a scuola viene utilizzato in maniera quasi più oneristica ma che adesso con la didattica digitale e con la didattica a distanza possiamo imparare ad utilizzare. Un po' se volete lo strumento di scrittura collettiva di cui parlava Don Milani solo che adesso acquisisce una nuova dimensione che è quella del digitale e del cloud computing. Con documenti però è possibile seguire gli sviluppi della collaborazione dei gruppi di lavoro. Vedrete che c'è una funzione fondamentale di documenti offerta da Google agli studenti ma anche e soprattutto ai docenti che è quello di seguire le attività che sono state svolte sul documento condiviso. Documenti come tutti gli altri strumenti che vi presenteremo in questo corso utilizza Drive per il deposito quindi la conservazione del file prodotto ma anche e soprattutto per la condivisione. Insomma non è un semplice programma di work processing, di elaborazione testi è qualcosa di più ed è uno strumento principe per la didattica digitale sia in presenza che a distanza.